A tutti voi buonasera dal Tg Max, in primo piano c'è la pagina dedicata alle elezioni comunali, ieri si sono svolti i ballottaggi. Marco Alessandrini è il nuovo sindaco di Pescara, il candidato del centrodestra ha doppiato al ballottaggio il sindaco uscente Luigi Mascia con il 66,3% delle preferenze. Ora dobbiamo metterci subito al lavoro, ha detto Alessandrini, la nuova giunta sarà composta da almeno 4 donne nel segno del rinnovamento e della competenza. Arriva a Palazzo di Città a metà mattina, il giorno dopo l'elezione al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini è eletto al turno di ballottaggio con un plebiscito, sconfiggendo con il 66% delle preferenze il sindaco uscente Luigi Alvore Mascia. Alessandrini, 44 anni, avvocato e figlio del giudice Emilio, assassinato a Milano nel 1979 da un commando di prima linea. Il commento al voto sul centro-sinistra a compatto e la forte astensione del secondo turno. Diciamo che senz'altro il risultato che è venuto fuori dalle urne ieri sera è un risultato molto importante, un risultato tondo, un risultato che mostra un grande sorriso nei miei confronti da parte di Pescara. So anche perché i dati bisogna leggerli sempre a 360 gradi che certamente la partecipazione al voto è stata scarsina. Questo mi dispiace, mi consola poco il sapere che anche nelle grandi democrazie occidentali, penso sempre agli Stati Uniti in cui la metà degli eventi diritto vota per il Presidente, però mi spiace ugualmente questo basso dato di frequenza. Tuttavia è frequente che ciò accade durante il ballottaggio, al primo turno il 70% degli eventi diritto ha votato, la giornata torrida di domenica sicuramente non ha aiutato, ma va bene così, certo non ci lamentiamo. Ora c'è da lavorare e da impegnarsi, ha commentato infine il mio sindaco, annunciando che la nuova giunta comunale sarà individuata all'insegna della capacità e delle competenze, con l'obiettivo di portare l'annunciato rinnovamento che in qualche modo il PD a targa Matteo Renzi è riuscito ad imporre con il dato straordinario delle recenti elezioni europee. Sicuramente la politica mostra il suo volto gassoso in eterno divenire, e quindi certamente penso al fenomeno del Movimento 5 Stelle che per la prima volta proderà su questi scrandi, poi c'è naturalmente il centrodestra frastagliato, ma mi sembra evidente che l'universo del centrodestra è pure in movimento e qualcosa sicuramente succederà. E complimenti al neosindaco, così l'ex primo cittadino di Pescara Luigi Mascia ha accolto il suo successore alla base della sconfitta, ha detto Mascia, stensionismo e divisione all'interno del centrodestra. Accoglie il suo nuovo sindaco con una stretta di mano a Palazzo di Città, Luigi Albore Mascia, il giorno dopo il turno di ballottaggio, che ha visto imporsi il candidato del centrosinistra Marco Alessandrini. Complimenti al neosindaco, commenta sportivamente al Tg Max Albore Mascia, rammaricato della spaccatura al primo turno tra Forza Italia e il nuovo centrodestra. Io credo che la spaccatura del primo turno sia stata determinante nel pregiudicare il risultato della coalizione di centrodestra e ha pregiudicato anche il risultato del presidente Testa e quindi dell'altra coalizione del nuovo centrodestra. È evidente che quel risultato creava poi un gap rispetto a quello del centrosinistra, un gap da colmare in due settimane, nonostante un apparentamento con il nuovo centrodestra e quindi un ricompattamento complessivo di tutte le forze di centrodestra, questo non è stato sufficiente e poi è entrata in gioco la seconda questione importante che è quella dell'astenzione dal voto. Io immagino che, come capita in Italia, come capita in Abruzzo, l'astenzione penalizza soprattutto il centrodestra. Chi si astiene in genere ha una tendenza politica moderata e quindi questo è stato l'altro supplemento di sacrificio e di penalizzazione rispetto al nostro risultato complessivo. Inevitabile anche per Mascia il commento sulla forte astensione al secondo turno. Anche la buona sorte non è stata dalla nostra parte ieri, è una giornata di sole, la prima giornata vera d'estate, quindi si è votata in una sola giornata, a differenza di quanto sia accaduto in Sicilia e le percentuali a Pescara sono più basse rispetto ad altri comuni in Italia. Questo la dice lunga e dipende quindi anche da un fatto così imponderabile, dal destino, da fattori che non sono in qualche modo condizionabili. Doveva andare così e è andata così, complimenti a chi ha vinto, complimenti ad Alessandrini, al neosindaco che comunque ha ottenuto un'affermazione già al primo turno significativa e ieri anche il centrosinistra ha pagato in parte l'astensione. Ballottaggio anche a Montesilvano dove la città ha scelto il candidato del centrodestra, Francesco Maragno che ha sconfitto il candidato del centrosinistra, Alino Ruggero con il 53,6% delle preferenze. Anche in questo caso è stato alto l'astensionismo, si è recato infatti a votare solo il 44% degli aventi diritto. In attesa della proclamazione ufficiale, dopo i festeggiamenti di ieri sera, primo giorno da sindaco per Francesco Maragno a Montesilvano. Come va? Tutto bene, stamattina già di buon'ora mi sono regato qui al Comune per incontrare i dirigenti e per incontrare i dipendenti. Credo che questo sia un passaggio dovuto per iniziare questa nuova avventura amministrativa. Io ringrazio ancora una volta i cittadini che mi hanno dato fiducia, sia quelli che hanno votato me, sia quelli che non mi hanno votato e a questi ultimi voglio lanciare un messaggio, voglio essere anche il loro sindaco e voglio in questo periodo meritarmi anche la loro fiducia e lavorare per questo. Sinceramente, come ha seguito lo spoglio elettorale? Perché in qualche momento sembrava che le centrosinistra recuperasse qualcosa anche rispetto al primo turno. Ma con estima tranquillità, perché non era una scelta che poteva dipendere da me. Quindi nel momento in cui in campagna elettorale abbiamo lanciato un messaggio molto semplice, molto reale, che davvero ci poteva essere un nuovo modo di far politica, una nuova prospettiva, un nuovo approccio per il territorio montesilvanese. Io ero abbastanza tranquillo che il risultato sarebbe arrivato, come di fatti è stato e ringrazio ancora una volta i montesilvanesi per la fiducia. Ora, senz'altro, sarà più tranquillo e rilassato. Si sente di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, per così dire? No, assolutamente no. Mi sento responsabilizzato invece. Oggi questo ruolo che mi appresto a ricoprire, perché ancora viene ufficializzata la nomina, è un ruolo di responsabilità, è un ruolo che mi porta ad avere rispetto per i cittadini, a lavorare per loro con la massima disponibilità e soprattutto la massima serietà e trasparenza. Da dove dovrà ripartire Montesilvano? Lei in campagna elettorale ha parlato innanzitutto dei problemi legati ai rifiuti. Sì, infatti proprio adesso io sto facendo delle riunioni con i dirigenti per cercare di affrontare e risolvere questo problema. È probabilmente il problema più importante, più impellente, ma ce ne sono tantissimi altri. Montesilvano purtroppo in questo periodo è stato lasciato un pochettino al proprio destino. Dobbiamo recuperare il tempo perso, ci dobbiamo rimboccare le maniche da subito. Maragno, che opposizione si aspetta? Io mi aspetto un'opposizione costruttiva. Io credo che sia intenzione di tutti, sia quelli che stanno in maggioranza, sia quelli che stanno in minoranza, lavorare per il bene comune. Io tenderò a loro la mano auspicandomi che anche loro facciano la stessa cosa e che si possa insieme lavorare per il bene di questa città. Non ce l'aveva fatta per un soffio a passare il primo turno, ce la fa al ballottaggio, riconfermato infatti a Teramo il sindaco forzista Maurizio Brucchi che si è imposto sul candidato di centrosinistra, Manola Di Pasquale, per soli 800 voti con una percentuale del 51,5%. Una vittoria particolarmente sofferta, ha detto, considerato anche il vento nazionale che espirava a favore del PD. Credo, ha aggiunto, che la rivincita del centrodestra debba ripartire da Teramo. Anche il comune di Giulianova ha riconfermato il sindaco uscente Francesco Mastromauro del centrosinistra. Il ballottaggio si è imposto sul candidato del centrodestra con il 62,8% dei voti. Corri da stadio per lui ieri sera per i festeggiamenti. Si riparte dalle cose che sono state fatte in questi cinque anni. Voi tenete presente che Giulianova è una punta avanzata nel campo dei rifiuti. Noi a Giulianova abbiamo una raccolta differenziata che si attesta al 68%. Abbiamo fatto il bando per il gestore unico. Siamo uno dei tre comuni in Italia a averlo fatto insieme a Torino e Penne. Risparmieremo un milione di euro l'anno appena si insederà il nuovo gestore. Nel campo dell'urbanistica abbiamo fatto il nuovo piano regolatore e abbiamo lanciato il mattone zero, ma veramente e concretamente da un anno a Giulianova. A Giulianova adesso si riutilizzerà solo l'edificato, dando indici e benefici volumetrici a chi farà questo e adotterà le buone pratiche delle energie alternative, dei materiali della bioedilizia e conformando gli edifici alla raccolta differenziata porta a porta. A Giulianova c'è la democrazia partecipata vera dal basso. Giulianova è la città che spende di più il rapporto pro capite nel sociale. E allora io voglio ripartire da quello. Giulianova spende due volte e mezza in più della città di Teramo nel rapporto fra spesa e abitanti nel sociale. Il primo atto di giunta sarà quello di dimezzare le indennità di sindaco e assessore con quelle risorse formare e costituire un fondo di solidarietà che andrà a sostenere sempre di più, come già facciamo, le famiglie in difficoltà, quelle che non possono pagare le bollette delle utenze. Da quello ripartiremo e dalla onestà, trasparenza che ci contraddistingue, perché ho sentito di tutto di più, Giulianova è un primato italiano. Giulianova non ha mai ricevuto né il sindaco, né gli assessori, né i consiglieri comunali, né la visita della magistratura penale, né di quella contabile. E questo è un record. La cronaca, le fiamme gialle del nucleo di poste e telecomunicazioni della sezione di polizia giudiziaria di Chieti al termine di una complessa e articolata attività coordinata dalla procura hanno denunciato a piede libero sei persone di cui cinque imprenditori per i reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ricettazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti con accertamento della distrazione di somme di denaro per circa 3 milioni di euro e proceduto poi al sequestro di due aziende, nove immobili, tre auto di grossa cilindrata e un'imbarcazione da diporto. Le indagini sono state avviate a seguito di segnalazioni di operazioni bancarie sospette di uno degli imprenditori. Tra queste la movimentazione di ingenti somme di denaro, oltre 6 milioni di euro, provenienti da persone e società con sede alle isole vergini britanniche, ma riconducibili a cittadini di nazionalità russa che pervenivano alla società italiana tramite bonifici bancari con causali generiche e privi di riscontri contabili. Venivano poi incassati ed utilizzati dall'amministratore per finalità estranea l'esercizio d'impresa. L'attività investigativa si è conclusa con una richiesta di applicazioni di misure cautelari reali e personali accolta dal GIP presso il Tribunale di Chieti che ha disposto il sequestro preventivo delle aziende dei beni mobili e immobili di loro pertinenza per un valore di oltre 6 milioni di euro. L'ex parroco della cattedrale Madonna del Ponte di Lanciano, Don Valentino Toffanino, è stato investito sulle strisce pedonali. Forte l'impatto, ma non corre pericolo di vita. C'è probabilmente una distrazione alla base dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Lanciano in via Ferro di Cavallo. Don Valentino Toffanino, 81 anni, parroco storico della cattedrale Madonna del Ponte, è stato investito sulle strisce pedonali da una Fiat 500 guidata da AR, una donna di 39 anni. Nell'urto Don Valentino è stato sbalzato di alcuni metri, ha riportato un ematoma all'altezza della nuca, sull'asfalto c'è una piccola chiazza di sangue. La donna che lo ha investito, residente in via Ferro di Cavallo, era appena uscita di casa. Agli agenti della Polizia Municipale, intervenuti per i rilievi, avrebbe dichiarato di non aver visto l'ex parroco della cattedrale mentre attraversava la strada. Forte l'impatto, nelle immagini si nota l'auto con il cofano ammaccato e il parabrezza visibilmente crepato. L'anziano sacerdote è molto noto in città per la sua attività pastorale, costante e instancabile, esercitata per anni anche nelle scuole medie inferiori come docente di religione. La notizia ha fatto subito il giro della città, suscitando apprezzione nei tanti che lo conoscono. Don Valentino è stato ricoverato con l'ambulanza del 118 all'ospedale Renzetti. Ai soccorritori non è apparso in gravi condizioni, parlava ed era lucido. Ora toccherà alla Polizia Municipale ricostruire la dinamica dell'incidente. Una lite per futili motivi sfocia in un accoltellamento al termine di un funerale accaduto a Civitella Roveto. I carabinieri hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio un settantenne romano. Subito dopo aver sferrato una coltellata all'addome di un suo coetaneo, l'uomo è fuggito a bordo della sua auto, rintracciato a Carsoli nei pressi del casello autostradale. I carabinieri hanno rinvenuto nell'auto il coltello a serramanico utilizzato per l'aggressione. Il settantenne si trova in regime di domiciliari presso la sua abitazione a Roma. Sarà portato a teatro e in carcere. Il musical sulla legalità è andato in scena ieri sera presso il Polo Museale di Lanciano. Il musical è stato realizzato nell'ambito del progetto Diritti e Rovesci, promosso dall'assessorato comunale alle politiche sociali per diffondere la cultura della legalità tra giovani e adulti. Bene, bravi bis! Grande successo ieri sera per il musical sulla legalità portato in scena al Polo Museale di Lanciano dall'Associazione Cinque Sensi, nell'ambito del progetto Diritti e Rovesci, promosso dall'assessorato comunale alle politiche sociali per diffondere la cultura della legalità tra giovani e adulti. I testi e l'allestimento sono stati curati dal presidente dell'Associazione Antonella Scampoli, che ha coinvolto nel musical i ragazzi delle terze medie e delle superiori di diverse scuole cittadine e del CAG, il centro aggregazione giovanile. Lo spettacolo, nato dalle idee e dai suggerimenti dei ragazzi sul tema della legalità, ha raccontato la storia di un detenuto dal passato difficile, che decide di scrivere una lettera al figlio affinché da grande non ripeta i suoi stessi errori. I ragazzi, alla loro prima esperienza, si sono davvero impegnati nel progetto e nel musical, tanto che il responsabile delle attività educative della Casa Circondariale di Lanciano, Enrico Capitelli, ha invitato i ragazzi a presentare lo spettacolo in carcere. Avete un compito adesso, non vi girate indietro, avete un compito, non vi girate indietro. Cioè questa cosa deve girare in tutti i luoghi educativi del circondario, le parrocchie, le scuole, e prima di tutto in carcere, appena potete venire a rappresentarlo, ovviamente. Noi stiamo organizzando una settimana della musica a ridosso del 21 giugno. Faremo una serie di concerti musicali, per cui siete invitati a venire da noi, a portarci questo bel messaggio che colpisce sicuramente, colpisce sicuramente, quindi riuscirete a fare colpo anche su alcune persone che sono come quel signore che stava dietro a quelle sbarro, insomma. Un invito che l'assessore alle politiche sociali, Dora Bendotti, ha subito raccolto. Si pensava proprio di portare questo spettacolo anche al Teatro Fenaroli, insomma appena possiamo ripartire, insomma c'erano le autorizzazioni, e aprirlo a tutta la città, perché merita, perché è giusto che tutta la città guardi questo spettacolo e recepisca il messaggio. Quindi quanto prima cominciamo dal Teatro Fenaroli e poi casomai ci impegniamo anche per diffonderlo, come giustamente diceva lei, presso le parrocchie, presso tutti i centri educativi della città, ma di tutto il territorio. Siamo alla pagina sportiva, la Virtus non ha fretta e si guarda intorno per il dopo Baroni, salgono le quotazioni di Roberto D'Aversa, che però potrebbe diventare il vice di un allenatore esperto della categoria. Virtus lanciano per nulla fra estornata dalla decisione di Marco Baroni, pensa al futuro con la solita razionalità ormai abituata a colpi di coda velenosissimi di fine stagione. Il tempo non manca per individuare l'allenatore giusto, che per il terzo anno consecutivo sarà chiamato a raggiungere l'obiettivo della salvezza, mentre ci sarà da rinnovare qualche prestito interessante, inserire tasselli giusti che corrispondano a profili ormai conosciuti per lo spirito rossonero. Gioventù, fame calcistica, poche pretese, tanta voglia di mettersi in gioco. In settimana Marco Baroni tornerà a Lanciano per rescindere consensualmente il contratto, mentre da più parti si comincia a vociferare di una soluzione interna con il direttore tecnico Roberto D'Aversa che potrebbe passare alla guida tecnica. Lui è legato alla Virtus con altri due anni di contratto. L'ipotesi non è peregrina, ma probabilmente i Maio vorranno far crescere D'Aversa come vice, affidandosi ad un uomo di esperienza. Il ritorno di Gautieri sembra da scartarsi. La dirigenza non ha la memoria corta e le vicende dello scorso anno non sono state dimenticate. Un contatto, un colloquio, un purparle telefonico tra Guglielmo Maio e Gautieri c'è stato qualche giorno fa, ma oltre a manifestare riconoscenza per gli splendidi anni passati insieme non si pensa ad un ritorno di fiamma. La minestra riscaldata, insomma, non sembra poter appetire i proprietari del Lanciano. Si è parlato di Gianluca Colonnello, reduce da una positiva esperienza in Grecia, ipotesi smentita dalla società. Piace l'uomo, piace la serietà di Colonnello, ma ci vuole più esperienza. Piace sempre Massimo Oddo, ora la guida della Primavera del Genoa. L'anno scorso era uno dei papabili, ma la sensazione è che qualcosa di più grande bolla in pentola e dunque un allenatore di categoria esperto che possa tenere per mano il Lanciano e conquistare l'ennesimo miracolo. Qualcuno ha zardato Foscarini, ma nella stanza dei bottoni i telefoni già ribollono. Proseguiamo con lo sport. Zeman ieri a Pescara per il Memorial intitolato a Zucchini non si è sbottonato sul suo futuro. Preme il Cagliari, ma il Pescara è già pronto con un piano di riserva. Zeman sì, Zeman no, in un dilemma che si ripete, ma stavolta non all'infinito. La settimana è decisiva infatti per il Pescara, col direttore sportivo e il nuovo tecnico tasselli principali e fondamentali da inserire possibilmente da subito. Ieri in occasione del Memorial intitolato a Vincenzo Zucchini, a proposito quanta gente e soprattutto quanti personaggi legati a doppio filo col Pescara, è stato Zeman l'atteso ospite, ma nell'intervista non ha chiarito in pratica nulla. Circa il suo futuro. C'è una città intera che sogna il ritorno del Boemo, il ritorno di Zeman all'Andia. È un ritorno possibile o, viste le tante offerte, sarà difficile? No, la domanda non me l'aspettavo. A parte che ancora sono tesserato, si vedrà quello che faccio dopo. Ci sono speranze per i pescaresi? Ma finché uno vive ci sono sempre speranze. Stasera andrà a cena con i dirigenti del Pescara perché si vociferava anche di un invito a cena dopo il Memorial. Ma le voci sono tante, io non le ho sentite ancora, quindi non lo so. Il direttore Pavone può essere una carta importante per il Pescara? Non lo so, a parte che sono cose che io non so e quindi bisogna parlarne se mai no. Premi il Bologna, ma il principale concorrente del Delfino sembra adesso il Cagliari. Il nuovo proprietario Tommaso Giulini vorrebbe infatti affidare proprio a Zeman la guida tecnica, compreso Peppino Pavone dietro la scrivania, già contattato dal Pescara e d'accordo almeno fino a ieri su quasi tutti gli aspetti. Le prossime ore saranno decisive. Il Pescara non attenderà l'infinito. Davide Nicola rimane come prima scelta in caso di Di Niego. Marco Baroni altra scelta e poi Massimo Drago che parlerà breve con Vrenna del Crotone per valutare se continuare insieme. Ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Il Paganica Rugby ad un passo dalla promozione in Serie B battuti per 20-11 Lions-Livorno nella gara di andata dei play-off. Paganica Rugby ha un passo dal sogno. Sul terreno amico del Enrico Jovenitti e Rossoneri di Sergio Rotellini giocano 80 minuti ad alta intensità e superano 20-11 Lions-Amaranto-Livorno nell'andata della finale promozione. Per buona parte della prima frazione, forse complice anche la tensione, gli uomini in campo si studiano guardini e la partita si gioca prevalentemente sulla mediana. Entrambe le squadre avrebbero la possibilità di sbloccare il punteggio ma anche a causa del vento che sferza l'impianto sportivo paganichese non viene realizzato neanche uno dei tre piazzati, due per il Paganica, uno per i Lions-Amaranto, decretati dall'arbitro Damasco. L'equilibrio si spezza alla mezz'ora. A fondo centrale di Fabio Rotellini che rompe un placcaggio trova una buona linea di corsa e serve il sostegno portato da Simone Fiore bravo a rintuzzare il ritorno dei placatori toscani depositando oltre la linea. La marcatura pesante non viene trasformata, parziale quindi fermo sul 5-0 con cui si conclude il primo tempo. L'inizio della ripresa è favorevole ai toscani. I Lions-Amaranto infatti tornano in campo più decisi, alzano la pressione e dapprima riequilibrano il parziale grazie alla meta non trasformata di Scardino, poi si portano addirittura in vantaggio con un piazzato realizzato ancora dalla terza linea alla Bronica. Punti nell'orgoglio e spinti dal pubblico, i ragazzi rossoneri reagiscono e operano il controsorpasso al quarto d'ora. Mischia avanzante, Livorno che non riesce ad opporsi a indietreggia, ovale che arriva tra le mani di Federico Paiola, abile a trovare il barco giusto e schiacciare oltre la linea. Rotellini non trasforma, il parziale resta sul 10-8. Non pago del ritrovato vantaggio, il 15 di casa continua a spingere, al 28esimo realizza la terza meta. Mischia rubata sui 22 difensivi del Livorno, trasmissione a largo dell'ovale verso Antonello Anitori, il repentino cambio d'angolo del numero 12 rosso-nero, che mette fuori causa la rete difensiva Amaranto e corre a prendersi la bandierina per il 15-8. Dalla piazzolla, Rotellini non riesce ad aggiungere altri punti, mancando la trasformazione. Nel finale, i Lions Amaranto provano a rientrare in partita grazie al secondo piazzato mandato a bersaglio da Scardino, che vale il 15-11. Il Paganica però non si disunisce, al quarto minuto di recupero mette il punto esclamativo sulla sua prestazione, marcando la meta del bonus offensivo. Tuscio sui 10 metri ben portato a terra, si forma il raggruppamento spinta che costringe i Lions ad arretrare fin dentro l'area di meta, dove l'ovale è portato a terra dal tallonatore Stefano Paiola. La trasformazione, ancora una volta, non arride ai colori rosso-neri, ma poco importa. Al triplice fischio finale di Damasco, lo score di 20-11 consente al Paganica di conquistare 5 punti classifica e guardare con relativo ottimismo al return match di domenica prossima. Di certo, per espugnare il Montano, servirà il miglior Paganica dell'anno, ma ora che la strada è in buona parte tracciata, la truppa di Sergio Rotellini sicuramente vorrà percorrerla fino in fondo a testa alta e trasformare in realtà il sogno chiamato Serie B. Terza edizione di Correre Liberamente è la manifestazione podistica promossa all'interno del carcere di Lanciano, cento i partecipanti tra detenuti e atleti. Hanno partecipato in cento tra detenuti ed esterni alla terza edizione di Correre Liberamente è la manifestazione podistica promossa all'interno del carcere di Lanciano con l'Associazione dei Podisti Frentani e patrocinata dalla WISP e dal CONI. Un'iniziativa programmata dalla Casa Circondariale diretta da Lucia Vantaggiato con l'obiettivo di incentivare i momenti di incontro con la comunità esterna. E lo sport è evidentemente uno dei veicoli migliori per raggiungere il fine, uno strumento di partecipazione, di solidarietà e di scambio con cui vengono abbattute le barriere almeno per una mattina di festa sostituendole con l'entusiasmo e con lo stare insieme. Allenatore di eccezione per il terzo anno consecutivo il due volte campione del mondo di ultramaratona Mario Fattore. È sempre un'emozione particolare anche se siamo già al terzo anno. Qua c'è un incrocio di emozioni, emozioni belle dove un attimino ognuno di noi ha cercato di capire i confini della dignità dell'uomo. Magari il loro confine sta ancora dentro quelle quattro mura, però magari chissà un giorno quando riotterranno la libertà potranno magari riassaporare questa giornata e magari chissà qualcuno gli verrà anche in mente di fare qualche gara podistica. I detenuti primi tre classificati che sono stati premiati sono Cristian Pisanello, Bartolomeo Massaro e Giacinto Giuliano. Sì, ce ne sono una decina che veramente sono andati benissimo. Poi loro comunque si allenano in un anello di 30 metri, magari qualcuno lo fa anche due ore, però la maggior parte del loro tempo lo impiegano o stando seduti oppure magari giocando al calcio. Quindi veramente sono stati bravissimi e veramente qualcuno di loro sta diventando veramente un bell'atleta. A livello tecnico ti hanno chiesto dei consigli? Sì, sì, domande sbagliatissime. La prima domanda è come fai a correre per 100 km? Là ti sorge, diciamo, quell'istinto della natura cosa mi ha dato a me. Cioè io posso correre in maniera infinita. Loro devono correre per vivere e adesso riassaporare ancora di più. Quindi dando ancora di più un valore aggiunto alle loro giornate. E tutto. Vi ricordo che servizi, approfondimenti e programmi sono disponibili sul sito tgmax.it. Tra poco nuovo appuntamento con Passione Calcio. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.